Tanto tuonò che piove, diceva un vecchio adagio, ma in questo caso invece dopo nubi, tuoni e lampi è magicamente spuntato il sole. Il Consiglio Provinciale di Arezzo ha infatti approvato quasi all'unanimità il bilancio previsionale, facendo dormire forse tra ieri e oggi una notte più tranquilla al neopresidente Alessandro Polcri. Il documento è stato approvato da 11 consiglieri su 12 presenti, assente solo la consigliera della Lega Cinzia Santoni, alla quale comunque il partito aveva chiesto un voto contrario. C'è stata poi l'astenzione da parte di Patto Civico. Tutta la querelle dunque su quotidiani e media nelle ultime settimane con il centrodestra, la Lega per la verità, che annunciava tuoni e fulmini all'indirizzo del neopresidente, Reo, di essere stato sostenuto anche dalle forze di centrosinistra, si è risolto in una bolla di sapone. Anzi, come hanno detto i gruppi di centrodestra, ma non solo, che hanno votato sì in un atto di responsabilità amministrativa. Il sì è arrivato dal gruppo del centrosinistra per Arezzo, 5 voti, dal gruppo del centrodestra, tra altri 5 voti più quello del presidente Alessandro Polcri, che così salva bilancio e poltrona.